Questo video è la seconda parte dell'episodio in cui parlo delle story procedure, quindi se non l'ho ancora visto ti consiglio di andare all'episodio precedente. Questo perché nell'episodio precedente abbiamo visto insieme che cos'è la story procedure e come è stata definita sul database per fare un esempio pratico. E adesso andiamo proprio a vedere insieme come sviluppare il progetto in Sisma Studio e quali blocchi e funzioni utilizzare. Quindi ho già creato un progetto in Sisma Studio andando ad aggiungere un controllore NX102-1120. Ricordiamoci che il 20 finale è proprio per le versioni con il supporto al collegamento diretto a database. Vado nell'impostazione di collegamento e vado col clic col destro ad aggiungere il collegamento al database. Lo chiamiamo per esempio di ricette e facendo doppio clic vado a impostare i parametri di comunicazione. Quindi vado a dire che è un database di tipo SQL Server. Do l'indirizzo IP che è differente ovviamente dal PC con cui sto programmando Sisma Studio. Vado a mettere il nome del database NYLINEDB, nome utente NX102 e password OMRON, ovviamente nome utente e password che ho definito all'interno delle regole di accesso al database. Quindi controllo che i parametri siano corretti andando online con il controllore e provando a eseguire il test delle comunicazioni. Il test dà esito positivo, quindi i parametri che abbiamo inserito sono corretti. Scolleghiamoci dal controllore e andiamo nella sezione 0 del nostro programma. Andiamo a inserire quindi i blocchi e funzioni necessarie per il collegamento. Prima di tutto ci serve inserire il dbconnect per eseguire la connessione con il database. Quindi la chiamiamo fbconnecti. dbconnectionname ricordiamoci che è una stringa, siccome la voglio inserire come costante metto l'apice e scrivo il nome che ho definito all'interno dell'albero di progetto, quindi l'ho chiamato dbricette. L'importante è dare poi un id alla connessione. Questo valore dovrà essere riportato poi in tutti i blocchi e funzioni che utilizzeremo per il collegamento a questo database. Inseriamo anche un contatto per quanto riguarda l'esecuzione della connessione. Perfetto. E vado ad inserire quindi un'altra rang con il primo blocco funzione che dobbiamo utilizzare che è la touch procedure. La touch procedure che si trova sempre all'interno della famiglia dei blocchi e funzioni per quanto riguarda queste funzionalità. Andiamo subito a inserire un'istanza, un nome di istanza, quindi lo chiamiamo fbattach. Andiamo a inserire quindi un contatto per l'esecuzione della touch, quindi chiamiamolo xattach. e poi i parametri che ci servono sono il dbcognition, ovvero l'id che abbiamo recuperato da blocco funzioni di connessione. Quindi andiamo a inserire quello che è il nome della store procedure, che è getModel. e poi come argomento di input, quindi arg in, in realtà non avendo argomenti di input da inviare alla store procedure, dobbiamo utilizzare una speciale variabile, che è trattino basso dbc unused. Questa variabile identifica proprio il fatto che non esistono argomenti di input da passare alla store procedure. Come argomento di output invece dobbiamo inserire una struttura in cui i membri saranno proprio gli elementi che il database restituirà come output. Nel nostro caso sono due variabili, quello dell'order id e il customer name. Mi sposto quindi nei tipi di dati e vado a creare una struttura similare. Andiamo a crearlo per gli argomenti di output, quindi lo chiamiamo s. db ordine. Come membro mettiamo l'order id, che è un dint perché sul database è un integer. E mettiamo anche un order customer, che sul database è una stringa da 30 caratteri, quindi sul controllore andiamo a inserire string da 31, quindi un carattere in più. Ricordiamoci che sul manuale possiamo trovare le tabelle comparative per i tipi di dati sul database e quelli sul controllore. Creiamo quindi la variabile, la chiamiamo quindi db commessa e tipo di dato sdb ordine. Ok, quindi vado a scrivere dentro la variabile db commessa. Argomenti di inout non ne abbiamo, quindi vado a mettere la solita variabile dbc unused, così anche come return value, che non abbiamo utilizzato, che è un variabile di ritorno intera che può essere gestita nella story procedure, ma noi non l'abbiamo fatto, quindi vado a inserire ancora la unused. E infine devo andare a dichiarare il result set. Questo è una, quindi deve essere una variabile tipo struttura, che conterrà tutti gli elementi che vengono istituiti dall'ultima select che si esegue all'interno di una story procedure. Quindi mi sposto nuovamente sui tipi dati, creare un nuovo tipo dato, sdb ricetta, e al suo interno dobbiamo mettere come membri tutte le colonne che andrò a restituire con la select. Quindi, nuovo membro, vado a mettere scritto model, che è un string, abbiamo detto da 101, poi ne crea un altro, che è OS, poi ne crea un altro, che è la CPU, ne creiamo un'altra ancora, che è la RAM, poi manca storage, e infine monitor. Quindi questa è la ricetta che ci verrà inviata come return set dalla story procedure. Andiamo quindi a creare la variabile, come variabile globale, la chiamo db ipc ricetta, come tipo dato, sdb ricetta. Perfetto. E quindi inserisco la variabile che abbiamo creato, quindi db ipc ricetta. Dobbiamo anche gestire l'uscita process handle, che è un'uscita, che è un identificativo, così come lo è l'id della connessione per il db connection, ecco, è un'uscita che poi utilizzeremo per gli altri blocchi funzioni per l'esecuzione della story procedure. Quindi identifica quella story procedure che adesso abbiamo legato al controllore. Vado a scrivere i nomi, per esempio, db storage procedure. Vado a creare poi una nuova ranga, in cui vado ad inserire il secondo blocco funzione che ci serve, ovvero l'execute. Vado a prenderlo, si chiama db execute procedure. Lo trascino. Vado a dargli un nome distanza, execute. Db connection è l'id connessione. Il process handle invece è l'id della story procedure, che abbiamo definito attraverso il blocco funzione della touch. Quindi la touch viene eseguita una sola volta e crea quello che è l'id. Poi posso andare a eseguire la story procedure un numero indefinito di volte utilizzando l'execute. Ovviamente devo ricordarmi qual è l'id della story procedure che vado ad eseguire. Vedete che qui non ho da inserire quali sono gli argomenti di in-out o di in-out o result set. Tutto è stato già definito con la touch della procedure. Vado anche a mettere un contatto, quindi chiamo execute procedure. Poi vado a inserire un nuovo rang in cui vado a terminare con il terzo blocco funzione che ci serve per le story procedure. Abbiamo visto la touch, l'execute e il detach che troviamo qua. Detach procedure. Vado a scrivere un nome per istanza, detach, inserisco un contatto e devo ripetere ancora l'id della connessione e l'id della story procedure. Fatto questo abbiamo completato quello che è il flusso che ci serve per l'esecuzione della story procedure, quindi la touch, l'execute e infine il detach. Possiamo anche ovviamente salvare su variabili le informazioni in uscita dai blocchi funzioni. Per esempio l'execute ci dà delle informazioni molto utili oltre agli errori per il debug, ci dà anche le informazioni su quanti record ha salvato, quindi quanti ne ha recuperati, se c'è stato un caso di overflow e informazioni sullo stato. Per esempio andiamo a scrivere una variabile così da monitorare lo stato dell'invio, lo possiamo chiamare stato stored procedure. Ok. Andiamo online, scarichiamo il programma e vediamo come si comporta. Ok, quindi una volta che abbiamo scaricato vado ad eseguire manualmente la connessione al database che è avvenuta correttamente, eseguo l'attach alla story procedure, anche in questo caso vediamo che è avvenuta correttamente e abbiamo anche un id che possiamo utilizzare per i blocchi funzioni successivi, possiamo anche mettere a false sia l'attach che l'esecuzione della connessione. Una volta che abbiamo fatto l'attach e che abbiamo quindi l'id per la story procedure, possiamo eseguire la story procedure tramite il blocco funzione di execute, quindi vado a monitorare già le variabili db commessa e il db ipc ricetta per vedere come vengono modificate dall'esecuzione. Quindi db commessa e db ipc ricetta. Vediamo che adesso sono inizializzate, vediamo l'esecuzione della story procedure, ci restituisce effettivamente quello che è l'id della commessa, il numero 1, il nome del cliente e poi le informazioni circa la ricetta che è stata selezionata. Infine possiamo eseguire il detach, quindi il detach permette di togliere il legame tra il controllore e quella story procedure. Possiamo eseguire indefinite volte la story procedure prima di eseguire il detach.